Mediobanca ha elaborato un piano alternativo sulla sua partecipazione nelle assicurazioni generali rispetto a quello. Mediobanca ha elaborato un piano alternativo sulla sua partecipazione nelle assicurazioni generali rispetto a quello noto che prevede una discesa dall'attuale 13% al 10% circa. Lo scrive Il Sole 24 ore, spiegando che la bozza di progetto prevede il conferimento della partecipazione del 13% a una sub-holding controllata dalla banca e partecipata da investitori terzi. Il piano all'esame dell'amministratore delegato Alberto Nagel ha l'obiettivo di mantenere l'asset generali tra i principali pilastri a sostegno ai risultati del gruppo bancario. La sub-holding, secondo quanto ricostruito, potrebbe essere aperta all'ingresso di nuovi investitori, ma il controllo con almeno il 51% resterebbe in capo a Mediobanca. Non sarebbe nemmeno escluso scrive quotidiano un successivo rafforzamento della presa del veicolo sulle generali. La soluzione delineata avrebbe raccolto un consenso di massima tra gli azionisti chiave di Mediobanca, a cominciare da Unicredit e dal gruppo Bollor, che sarebbero concordi sulla necessità di non disperdere il valore delle generali. Mediobanca, interpellata dal sole 24 ore, non ha commentato, oggi in apertura a Piazza Affari il titolo di generali guadagna lo 0.3%, a 15, 60 euro, mentre le azioni Mediobanca viaggiano in rialzo dello 0.2%, a 8, 82 euro. Leggi anche. Pirelli esce da Mediobanca. Cos cambia la galassia del nord.